oggi il 31 gennaio 2023 e ci sono api su questo fiore su questa fioritura ce ne sono più di una, ce n'è una anche qui ne sono diverse diverse anche lì grazie a tutti ci stanno radunando diverse api attira molto questo fiore bella feritura bella 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 ciao e alla prossima